Una sentenza del Consiglio di Stato ha messo fine alla validità delle concessioni balneari che in questo modo dovranno andare a gara entro il 2023. Uno stravolgimento della volontà politica lo ha definito l'onorevole Antonio Zennaro che grazie all'attuazione delle proposte della Lega con il governo Conte aveva provveduto all'estensione fino al 2033. Con questa mossa il Consiglio di Stato metterà a rischio migliaia di posti di lavoro sul territorio abruzzese dove nella maggior parte dei casi si tratta di piccole imprese a gestione familiare. In Abruzzo si tratta di piccolissime attività, gestione familiare ma anche tanti giovani che hanno preso questi stabilimenti e hanno fatto dei mutui, dei debiti, delle cambiali e quindi siamo molto preoccupati. Adesso lavoreremo sia a livello regionale, parlamentare, governativo ma anche a livello europeo per intervenire. Zennaro prende poi in prestito esperienze di altri paesi europei come ad esempio la Spagna dove si è provveduto a rinnovare le concessioni anche fino a 70 anni. Una scelta molto realmente fuori da quello che è la realtà anche europea perché in Spagna e in Portogallo hanno avuto dei rinnovi di quasi 70 anni quindi siamo molto critici perché mette in difficoltà anche in Abruzzo migliaia di attività, migliaia di imprese e migliaia di posti di lavoro. Una situazione che potrebbe mettere in difficoltà anche il turismo balneare in vista della prossima stagione estiva. Sì perché ovviamente adesso bloccherà tutti gli investimenti che queste imprese del settore turistico non potevano fare, avevano anche pianificato, ci sono persone che hanno preso dei mutui e quindi è un grosso problema. Bisogna che entro qualche mese, auspichiamo anche che il Presidente Draghi ovviamente con la sua riconoscibilità a livello europeo possa trovare un accordo perché l'Abruzzo è gravemente colpito da questa sentenza.